Ciao bambini! Oggi faremo un lavoro per cui servirà preparare la pasta di sale. Vi ricordate come si fa? Servono due tazzine di farina, una tazzina di sale e una tazzina d'acqua. Adesso non vi resta che sporcarvi le mani e impastare. Quando l'impasto sarà pronto, dovrete versarlo su un piano di lavoro. Io, per esempio, ho utilizzato un tagliere di legno. E preparate, utilizzando dei piccoli pezzetti di pasta di sale, delle sferette, delle palline. Poggiatele sul piano di lavoro e poi fate un buchetto al centro della pallina. Capirete poi per cosa vi sarà utile. Bene, una volta che avrete finito le vostre palline, lasciatele riposare per qualche ora. Quando si saranno indurite, allora aprete delle palline un po' come queste e potrete utilizzarle come preferite. Per esempio, potrete creare dei bracciali, delle collane, utilizzando appunto una cordicella. Un po' così. Dovrete colorarne alcune di rosso e alcune di blu, perché vi serviranno una volta che tornerete a scuola per imparare le decine e le unità, anche se già siete abbastanza preparati.